Grazie a tutti. E' vero. Quindi io do il benvenuto a tutti a questa prima attività, che chiamiamo il nuovo anno accademico, anche se ufficialmente i nostri anni accademici si fanno dal primo gennaio per il 12 dicembre, però quest'anno assomigliamo di più a un'università. Oltre a questo do anche il benvenuto qui alla signora, posso chiamare la signora Torelli? Sì, con Cetta. E' vero una serie, che anche lei è archeologa, e che ha accompagnato Mario, poi si erano praticamente già trasferiti in Sicilia, direi, nell'anno scorso. E abbiamo stasera il piacere di averla finita di noi. E quindi io non faccio una conferenza su Mario Torelli, perché abbiamo ritenuto di farla fare a due dei suoi allievi, notti, ma ce ne sono tanti. E' stata una scelta un po' casuale, dico la verità, non si offendano i due oratori, però è così. Insomma, c'era chi conosceva uno, c'era chi conosceva l'altro, ah, Aldi, Vittorelli, etc. Abbiamo avuto l'idea di fare questa commemorazione in una forma così, di due suoi allievi che parlano di lui. Uno ne parlerà solo verbalmente, a parole, e l'altro presenterà invece una serie di diapositive che si fanno alle attività teologiche che, sappiamo bene, che Mario stava a svolto e lo stava ancora forse svolgendo negli ultimi anni. Quindi io ho il piacere di dare la parola per primo a Francesco. Non ho chiesto a Francesco di tirarsi un curriculum, perché di solito lo diciamo il curriculum, però lui è un professore associato, no? È associato, dica pure lei quello, perché non c'è problema. Sì, ma sono professore associato comunque qui a Perugia e basta così. Non si arrabba, sono appena, sono appena, sono appena, sono allievo di Mario, sono allievo di Mario, ma è una cosa più importante. Io insegno archeologia delle province romane, virtualità e pratiche religiose e topografia antica qui a Perugia. A lettere, diciamo. Insegno sia a lettere che al Dipartimento di Filosofia. Ah, quindi sono due Dipartimenti diversi. Sì, abbiamo un Dipartimento di Afferenza e Filosofia. Ah, di Afferenza e Filosofia. Ok, va bene. Allora io cederei la parola a lui, che fa la prima presentazione. Abbiamo l'assistenza valida del dottor Peteris, qui, che senza di lui saremmo morti. La prima presentazione è che possiamo procedere e dare la parola a lui e io mi tolgo di mezzo. Allora, ringrazio il professor Mantovani, ringrazio l'Accademia, anche se dico la verità, non è facile per me parlare di Mario Torelli perché il vuoto che ha lasciato il grande e il dolore per la sua scomparsa è ancora bellissimo. E bellissimo è anche il ricordo di mille giornate di lavoro che abbiamo trascorso insieme, passeggiate in corso vannuccio in via Buontempi, viaggi, cene, piacevoli momenti di confronto e di discussione. Pensavo spesso e penso ancora che Mario Torelli fosse nato per insegnare, una percezione che avevo non tanto o non solo quando lo ascoltavo nelle aule universitarie o nei consessi cosiddetti ufficiali, ma soprattutto quando parlava di archeologia e non solo di archeologia in certe occasioni quotidiane. Ed era in queste occasioni del tutto informali che spesso, su mia sollecitazione, Mario non mancava di ricordare episodi più o meno recenti della sua vita. E voglio dunque condividere con voi in questa serata alcuni di questi suoi racconti che a me, soprattutto quando ero un giovane laureando, un giovane specializzando, sembravano non riferiti, ma direi meglio quasi narrati. Nonostante allora avesse pochi anni, Mario ricordava con lucidità, ma anche con sofferenza, il bombardamento di Roma del buio 1943. Così come ricordava e ben descriveva i giorni della liberazione, l'ingresso degli alleati nella capitale. Non era mai semplice scegliere il regalo giusto per Mario, ma ricordo che in due occasioni ero certo di aver fatto una buona scelta. Decisi di regalargli due libri che sono sostanzialmente due viaggi nella memoria di quegli anni e che infatti molto apprezzò. Portico di Ottavia XIII, di Anna Foa e l'alba di un mondo nuovo di Alberto Asorroso. Nel racconto degli eventi del secondo conflitto mondiale e del dopo guerra erano protagonisti con Mario, la mamma, il padre e soprattutto Roma. In particolare la Roma del suo quartiere San Giovanni, con gli acquedotti di Ruti, con l'Obelisco, con il parco di Villa Volkonsky, già ambasciata tedesca che scorgeva dal terrazzo della sua casa, e con il Museo Lateranense, che, come mi riferiva, insisteva per visitare insieme al papà nei pomeriggi domenicali. E sul ricordo del Museo Lateranense posso citare alcune sue righe. Adoravo quelle immense sale deserte con grandi statue e il nitore dell'ambientazione tardo-neoclassica. In quelle sale, quelle statue rendevano ai miei occhi plasticamente viventi le avventure dei grandi poemi epici antichi, che conoscevo dai libri della Scala d'Oro, come la leggenda di Troia e la leggenda di Enea. Proprio in queste sue esperienze, nelle quali la lettura dei classici si fondeva con l'archeologia delle immagini e con i paesaggi delle rovine urbane, Mario riconosceva le ragioni lontane della sua scelta di studiare il mondo antico. Il destino di archeologo che scelsi per mesi colorava di intense passioni e di altrettanto intenso studio, senza che per questo mi abbandonasse l'inquietudine culturale che aveva contraddistinto la mia prima giovinezza. Con questa frase, che cito dalla presentazione autobiografica per il premio Balzano, arrivo ai ricordi degli anni universitari, anni che per Mario furono difficili per la morte del padre nell'agosto del 1957 e per la necessità di coniugare con fatica studio e lavoro. Fu obbligato infatti per la non facile situazione economica di impiegarsi al Ministero della Difesa Aeronautica. Quei mesi di difficoltà, come ebbe a scrivere, lo riportarono sulla terra e lo costrinsero a porre fine alle vaghezze giovanili ad un certo folle titanismo. Ma gli anni universitari furono per lui anche pieni di incontri e di interessi. Interessi per la letteratura russa, per la letteratura italiana, mi raccontava con nostalgia delle affollate lezioni di ungaretti alla sapienza, quindi gli interessi per la critica cinematografica, per le lingue, soprattutto per il cinese che studiò ben quattro anni, e poi l'interesse per la politica, vissuta sempre da Mario come esperienza di vita e di cultura. Suono del 1957 è l'incontro con Ranuccio Bianchi Banditendi e il suo primo scavo archeologico a Sudiaco, e del 1960 la laurea in autoscologia discursa sulla città di Faleri sotto la guida di Massimo Pallottino, e ancora è degli stessi anni la conoscenza di Attilio e Grassi. Nei racconti di Mario il profilo di questi tre grandi maestri appariva molto diverso. Emergeva controverso, spigoloso il suo rapporto con Pallottino, esaltante direi, l'amicale intesa con Bianchi Banditendi, del quale conosceva bene pregi e difetti che ogni tanto non mancava di confidare. Devo dire tuttavia che solo pensando ad Attilio e Grassi Mario arrivava quasi a commuoversi. Di questo schiu antichista di origini tristine Mario aveva fatto su una frase che ripeteva ai suoi tesisti e che spesso ripeto a me stesso, il meglio è nemico del bene. E di Degrassi Mario lo dava in particolare l'umanità e la generosità intellettuale, che aveva sperimentato nei primi anni Sessanta frequentando i suoi seminari di epigrafia latina. Seminari dai quali scaturirono alcune delle sue primissime pubblicazioni e che si tenevano nella stessa casa romana di Degrassi. Un'abitazione dell'atmosfera sobria che, come la villa di Geggiano di proprietà Bianchi Bandinelli, Mario sapeva descrivere con dovizia di dettaglio. E qui cito ancora Torelli. Oltre a insegnarmi non solo le tecniche dello studio delle iscrizioni, ma anche parecchie nozioni di carattere istituzionale ed antiquario che mi saranno preziose negli anni a venire, Attilio Degrassi mi ha fatto capire che il nostro lavoro di archeologo può trovare la giusta dimensione solo confrontandosi con storici veri. Di qui la mia acidità, che è quasi sempre diventata amicizia con tanti storici dell'antichità. Da Ettore Lepore ad Emilio Gabba, da Filippo Cassola ad Arnaldo Momigliano, da Luigi Moretti a Domenico Muschi, con i quali ho intrecciato fecondi rapporti. E a proposito di amicizie, gli anni universitari consolidarono il legame con archeologi del calibro di Filippo Guarelli, Adriano la regina e Fausto Zevi, con i quali Mario condividerà molte esperienze sul campo e la felice stagione dell'Enciflopedia dell'Arte Antica e dei Dialoghi di Archeologia, rivista fondata da Bianchi Bandinelli nel 1967. Intanto, dopo l'imprescindibile concorso, il primo gennaio del 1964, Torelli entrava come ispettore archeologo al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e gli anni successivi furono per lui decisamente ricchi di soddisfazioni grazie a notevolissime scoperte archeologiche. Mi riferisco alle esplorazioni del santuario di Menerva a Santa Marinella di Cerpedri, alla scoperta dell'eccezionale templo maurale di Bansi, provincia di Potenza, ai rinvenimenti nel territorio di Veglio ed infine, a partire dal 1969, agli scavi del sito di Regravisca sulla costa tarquinese che considerava, parole sue, il vero turning point della mia vita scientifica. Mario, sorridendo, ricordava spesso la fortuna, così diceva, di quegli anni, una fortuna che sembrava quasi risarcirlo della perdita del padre e delle difficoltà degli anni precedenti. Già da queste prime vicende biografiche che ho rapidamente, per forza di cose, di percorso, si comprendono subito i motivi per cui, nelle battute iniziali di un'intervista rilasciata qualche anno fa al Giornale dell'Arte, Mario disse al giornalista questa breve e emblematica frase «Il mondo attito è uno solo». Mario Torelli, infatti, mai si è considerato un rigido specialista, ma un archeologo nel senso più ampio del termine, un senso globale e olistico, diremmo oggi, al quale contribuivano, contribuiscono felicemente la storia e la storiografia, la filologia e l'epigrafia, la prosopografia, l'iconografia e molto altro. Sappiente cultore di connessioni sistemiche, è significativo che in alcune circostanze preferisse utilizzare il termine plurale, archeologie, e correggesse quasi sempre quanti lo presentavano solo come un etroscologo. Non è neppure casuale se nelle sue ultime corpose miscellane riscritti, se mai in significare e opuscola, sia stato costretto, per così dire, ad organizzare i toni in parti dedicate rispettivamente al mondo greco, al mondo etrusco, al mondo romano. Mario Torelli amava trattare ogni ambito dell'antichità e sta soprattutto in questo approccio, adottato con eccezionale acrume, acume e profonda passione, il suo decisivo contributo a quella che possiamo definire una riforma o una rifondazione dell'archeologia italiana. E mi è certamente ad aiuto per chiarire il significato di queste mie parole, rileggere le motivazioni per il conferimento del premio Balzano nel 2014. Per il carattere profondamente innovatore dei suoi studi in tutti i principali ambiti della cultura antica, da quello greco a quello etrusco a quello romano, per la grande rilevanza delle sue sperimentazioni metodologiche e delle sue scoperte archeologiche, per l'originalità della sua opera in cui convergono in una sarda visione globale l'indagine storico-epigrafica, l'analisi iconologica, la valutazione storico-religiosa, la ricerca antropologica, sempre sostenute da una sensibile attenzione alle strutture economiche e sociali e agli aspetti ideologici e istituzionali delle culture antiche. Fine citazione. L'intelligenza vivissima, la libertà intellettuale e la divorante curiosità, questa è un'espressione sua, oltre ad una certa inquietudine e ad una costante insoddisfazione, non potevano trattenere Mario nelle pur belle sale rinascimentali di Villa Giulia, che decise infatti di lasciare dopo soli cinque anni, nel 1969, per intraprendere l'alta missione dell'insegnamento universitario, cui era chiamato, come vi dicevo, per naturale vocazione. Per andare cioè a spezzare il pane della scienza, come talvolta amava dire, a bassa voce prima di entrare in aula. E sulla missione dell'insegnamento c'è un'altra frase che Mario ripeteva citando l'annuncio Bianchi-Panninieri. Non è la cattedra che fa il professore, ma il professore che fa la cattedra. Un principio che ha tenuto ben presente fino ai ultimi giorni e che lo ha sempre accompagnato nelle sue molteplici esperienze didattiche. All'Università di Cagliari dal 1969 al 1975, qui a Perugia per 35 anni, dal 75 al 2010, a Padova presso la Scuola di Specializzazione in Archeologia, e nei tanti altri incarichi nazionali ed internazionali che lo hanno portato ad insegnare in Colorado, nel Michigan, in California, a Princeton, più volte a Parigi, Ecole Normale, Sorbonne, Collège de France, in Canada, ad Oxford, Bristol, fino ad Atene, per la Scuola Archeologica Italiana. Una dimensione internazionale che ha dato lustro per molti anni all'Università di Perugia, alla Facoltà di Lettere, all'Istituto di Studi Comparati sulle Società Antiche, meta soprattutto tra gli anni 80 e 90 di autorevolissimi archeologi e storici. Una dimensione internazionale che non si è mai sbiadita e che lo porterà a ricevere in anni recenti le lauree onoris causa dall'Università di Tupin e di Haram. Ricordo inoltre che Mario andava particolarmente fiero di aver contribuito su invito di Arnaldo Mommigliano all'ottavo volume della Cambridge Engine History e voglio anche ricordare e sottolineare come due tra i primi suoi libri siano stati scritti durante i soggiorni americani. Penso al libro Sperilievi storici romani edito ad Ann Arbor nel 1982 e penso all'Avigno in Roma che è del 1984 al quale poter lavorare a lungo e in piena tranquillità anche queste sono parole sue nella prestigiosa sede di Princeton. L'Avigno in Roma è un'opera innovativa per molti aspetti che Mario decise di dedicare non a caso alla memoria di un altro suo docente degli anni universitari lo storico delle religioni Angelo Brevich il cui insegnamento aveva indirizzato la sua formazione anche verso discipline quali l'antropologia del mondo antico e appunto la storia delle religioni. Posso a riguardo riferire una sua riflessione. L'aver scoperto il ruolo di ideologia dominante svolto nel mondo classico dalla religione che si è posta come struttura capace di organizzare i rapporti sociali attraverso il mito in Grecia e attraverso il diritto fondato sulla ritualità religiosa a Roma temi sui quali ho potuto scrivere più di un saggio è stato per me la linea guida per numerose indagini sul mondo greco-romano e sulle civiltà etrusche e preromane d'Italia. Una linea guida che ha seguito con profitto anche nella curatela del quarto volume del Tescra è un tesaurus sui culti greco-romani opera pubblicata a Los Angeles nel 2005 dalla Getty Foundation e che ha segnato una tappa fondamentale anche del mio percorso di studio e di ricerca. Ero allora specializzando in archeologia e Mario decise di mettermi alla prova. Mi assegnò inizialmente la scrittura di sette voci di quel tesaurus poi piuttosto soddisfatto del mio lavoro aumentò gradualmente quel numero. Alla fine arrivai a scrivere cinquantaquattro voci che come si può immaginare furono per me una preziosa occasione di crescita ed indirizzarono decisamente i miei interessi scientifici. Mario del resto amava i grandi numeri come i trentasei liberi che era d'obbligo studiare per superare l'esame di archeologia classica 2 prova riservata agli studenti iscritti all'indirizzo archeologico che decisi di sostenere solo dopo un intero anno di preparazione esclusiva non feci altro praticamente. quella scelta mi obbligò a discutere la laurea ampiamente fuori corso ma oggi a distanza di qualche annetto posso dire che non mi sono mai pentito di aver impegnato così tanto tempo nello studio di un singolo esame universitario. Accennavo poco fa al suo incarico di insegnamento verso la scuola archeologica italiana di Atene e non posso allora non ricordare i forti legami di Mario con la Grecia con le archeologie della Sicilia e della Magna Grecia legami iniziati tra le coste etrusche dove i greci attraccavano come sa bene il professor Fiorini e le ceramiche attiche delle vetrine di Villa Giulia legami resi via via più forti dalla sua partecipazione ai convegni di Taranto dagli scavi a Pestum e a Policoro dall'edizione della collana Storia e Civiltà dei Greci dalla stesura per la terza della storia dell'urbanistica e per mondatori della guida archeologica della Grecia o ancora dal commento dell'opera di Pausania per la fondazione Valla fino alla più recente pubblicazione dello studio sui Pinakes di Lodri e del volume Dei Artigrani archeologia delle colonie greche d'Occidente quest'ultimo dedicato alla memoria di Domenico Gusti storico dalla visione organica e lucida anche queste sono parole sue con il quale Mario ha condiviso non solo la curatela dell'opera di Pausania ma prima ancora le fervide esperienze di ricerca dell'Istituto Gramsci segnate soprattutto dai comuni interessi per la storia economica e per le società schiavistiche un'attenzione per le classi subalterne che Mario ha sempre mantenuto e che si rivela chiara e forte anche nella sua ultima fatica Ritorno a Santa Venera opera che chiude un'interminabile lista di pubblicazioni nella quale risultano elencati ecco di nuovo i grandi numeri circa 30 monografie e più di 400 articoli scientifici e contributi vari se avrete la perseveranza di scoprire le pagine di questo lungo elenco non mancherete di trovarvi anche saggi di architettura di urbanistica di topografia di storia dell'arte di glittica di fortuna dell'antico molti di questi saggi sono stati pubblicati in Ostraca rivista di antichità che Mario aveva deciso di fondare per proseguire la missione dei dialoghi di archeologia interrotti nel 1992 in questa sua lista di pubblicazioni si potranno anche leggere i titoli dei cataloghi delle mostre che ha curato dalla grande mostra sugli etruschi a Palazzo Grassi nel 2000 alla mostra sulle metropoli dell'Etruria meridionale nel romano Palazzo delle Esposizioni siamo nel 2008 oltre alle mostre allestite al Colosseo sull'Iliade 2006-2007 e poco prima di lasciarci sulla fase romana di Pompei come ha da poco ricordato un brillante collega dell'Università di Pavia Maurizio Arari nella mostra di Venezia non andò in scena la solida antologia d'arte o di civiltà ma il frutto di una riflessione personalissima sulla storia di un'aristocrazia quella etrusca è uguale a se stessa nel tempo pur attraverso la varietà dei segni e degli stili cui aveva affidato la materializzazione dei suoi sogni perché anche il sogno se si converte l'immagine può diventare oggetto di una elaborazione storica i sogni appunto e chiedendomi per un attimo anch'io e con discrezioni quali fossero i sogni di Mario ho ripensato alla frase di un celebre film di Peter Wayne solo nei sogni i uomini sono davvero liberi e da sempre così e così sarà sempre il film che conoscete tutti è l'attimo fuggente e racconta la storia di un giovane ed entusiasta insegnante che propone una paideia ben lontana dagli schemi tradizionali e dalle convenzioni che esorta continuamente i propri allievi e qui cito la sceneggiatura a guardare le cose da angolazioni diverse ad osare cambiare a cercare nuove strade grazie caro Mario per il tuo magistero per la tua generosità intellettuale per aver sognato insieme a noi ringrazio molto il professor Martini per questa presentazione che è ricca di spunti e anche di malità ci ha fatto monosare meglio il nostro accademico che abbiamo conosciuto ma forse non abbastanza nel periodo che è stato il nostro membro il nostro socio adesso integriamo questa cosa per la presentazione del professor del dottor Fiorì del professor Fiorì e gli auguriamo di essere professor Fiorì da ieri bene bene ovviamente è una ricerca di ma è quella di riscatto grazie grazie io sono docente di metodologia della ricerca archeologica e di etruscologia dal dipartimento di lettere di storia dell'antica dell'architettura uno al mio dipartimento di afferenza che è il Dica del dipartimento dell'ingegneria civile ambientale devo dire che stasera anch'io sono veramente molto emozionato molto emozionato di presentare davanti a tutti voi quello che è stato diciamo la scoperta una delle scoperte ma Mario andava fiero nelle sue interviste che aveva dato negli ultimi anni la citavo sempre una erano ielogia tarquinienza e l'altra appunto era il santuario empurico di Gravisca di Gravisca si parlava fondamentalmente dal Seicento però semplicemente così si sapeva era una citazione dotta chiaramente nel territorio di Tarquinia non si sapeva dove collocarla chi poneva questo sito alla foce del Marta uno dei fiumi di Tarquinia l'altro si ha più giù verso la zona di Porto Clementino ecco in realtà nel 1968 un giovane archeologo che praticamente che all'epoca era ispettore ed era reggente era sempre in tendenza del lettore militerale capì subito che le rovine che fondamentalmente avevano trovato durante degli scavi fatti alquanto appositivamente erano estremamente importanti perché erano sicuramente i resti della famosa colonia romana di Gravisca fondata nel 181 avanti e di cui ci parlavano le fonti le fonti latine le fonti romane e proprio questa foto è una foto del 1973 di un di un'intervista che Mario Torelli concesse al TV a Rai 1 e dove raccontava proprio le vicende che sono state delle vicende veramente credibili del rinverimento di questa di questa colonia viene avvisato che sono in corso la costruzione di palazzine era il periodo nel 68 in cui tutta la zona del litorale praticamente cominciava la lottizzazione del litorale e anche di questa zona del che stava proprio dietro Porto Clementino dove c'erano state delle notizie di rinverimenti nel 1940 quando avevano costruito una colonia poi avevano costruito la cosiddetta casa del colonnello per cui ci sono le notizie scavi però ecco diciamo nonostante queste segnalazioni erano stati costruiti appunto nell'ambito di questa opera che poi dopo coinvolgerà fondamentalmente tutto il litorale una serie di palazzine in particolare tre palazzine in cui i pilastri fondamentalmente fondavano sui muri in opera reticolata della colonia umana interviene Mario Torelli interviene subito inizialmente diciamo con grandi difficoltà con grandi difficoltà ma lui chiaramente trentatré anni è già sicurissimo di sé sa benissimo di che cosa si parla e fondamentalmente interviene e come raccontava sempre diceva lo scavo è la botta di fortuna e la botta di fortuna in questo caso fu il rinverimento di un tesoretto di un tesoretto di d'oro e quindi di 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 soli d'oro di 174 soli di d'oro inquadrabili inquadrabili alla metà del quarto secolo avanti Cristo che praticamente erano stati interrati probabilmente nel nel quattrocento nove quando c'era stato il sacco gotico nella zona sia di Tartinia e da lì praticamente le ricerche di questo sito archeologico sono cominciate sistematicamente dal 68 69 70 e praticamente sono uscite sono state portate alla luce una serie di strutture appartenenti da un lato a delle ville ville extraurbane perché poi solgono accanto a dei seppercreti ci sono quelle tombe alla cappuccina erano state trovate quindi però erano grandi ville extraurbane di quelle che per esempio noi conosciamo per esempio lungo la via colanense ci sono delle ville importanti nonostante sia zona di necropoli e per cui una di queste ville è per esempio una grande villa che prospettava sul mare con una vita che va dall'età augustea fino al terzo secolo dopo Cristo da cui vengono importanti riferimenti come quali queste due teste di marmo greco che Mario Torelli ha studiato nel 2006 attribuendoli sono copie di età romana di originale appunto della fine del quarto secolo ma per esempio da questa villa che vi ho fatto vedere adesso proviene anche questo busto di Togato con Aquila quindi un personaggio vicino alla corte imperiale come è stato sottolineato quindi poi così tanti altri altri inverimenti ora mentre scavavano la zona della colonia romana nel 1970 decide di esplorare l'estensione di questa colonia romana e casualmente ecco di nuovo ritorna la fortuna casualmente fa un saggio all'interno del vano del vano C di un edificio che poi si è visto essere un edificio dedicato a Pollo ma nello scavo di profondità di questo vano viene fuori una quantità per quello che viene chiamato il saggio lucerne perché escono fuori vengono portate alla luce circa 885 lucerne poi iscrizioni in greco con dedica della terra e chiaramente subito capisci l'importanza è talmente importante che insomma fondamentalmente la zona della della colonia romana era stata scavata quasi tutta e si sposta con l'università che all'epoca era l'università di Tagliari e si sposta diciamo a scavare questa zona che fondamentalmente in nove anni si capirà essere uno dei siti più importanti del Mediterraneo occidentale e quello che inizialmente era semplicemente una citazione eredita diventa un sito che è oggi citato più di 20.000 volte in Google si è fatta una ricerca oppure che dove fondamentalmente sono state scritte centinaia di articoli ma non soltanto da noi ma fondamentalmente da tutto il mondo e da allora ecco le campagne di scavo si sono sono continuate dal 1100 al 79 al 1979 e poi c'è stata una pausa perché ecco uno dei principi fondamentali di Mario Torelli era quello che bisogna pubblicare bisogna pubblicare subito e dal 79 fino al 93 quando è uscito il primo volume del volume di Sabino Boldini sulla ceramica ionica non si è fatto altro che studiare queste centinaia di migliaia di frammenti che erano venuti alla luce poi gli scavi sono ripresi nel 1994 e anche oggi stiamo andando avanti nella zona del santuario settentrionale che a differenza di quello che era stato scavato negli anni 70 si è rivelato essere invece un santuario etrusco di cui adesso vi parlerò però bisogna dire che oggi questo scavo di continuo con studenti dell'università di Perugia ma ci sono studenti che vengono dall'Australia da Parisi abbiamo avuto studenti per esempio dalla Francia dalla Gran Bretagna ecco quindi ha una sua dimensione internazionale e anche ha una dimensione multidisciplinare di collaborazione con altre ente con altre istituzioni per esempio stiamo lavorando sull'aspetto paesaggistico topografico con l'ISPRE con l'Università di Siena con l'Archeozoologia con l'Università del Salento con Jacopo De Grossi Mazzolini che è uno dei maggiori archeologi d'Europa e con l'Università con gli scampi interdipartimentali quindi con la professoressa Comodi dell'Università di Geologia abbiamo fatto analisi sulle anforetanie o con il Centro d'Eccellenza Smart dell'Università di Perugia importanti scoperte grazie alla geofisica ed inoltre la gestione dei dati e la ricostruzione con gli architetti e gli ingegneri del mio dipartimento questo ha portato alla pubblicazione di oltre quattordici volumi e a quella di di oltre di un centenario di articoli di visto ma allora veniamo a questo scape Granisca sta per prima cosa si colloca lungo il litorale tarquinese tra i fiumi Marta a nord Mignone a sud a circa diciamo dieci chilometri dalla Tarquinia etrusca che era spostata verso l'interno quello che è la collina il monte della civica e diciamo a circa sette chilometri da Corneto che oggi è la Tarquinia attuale che però il nome medievale era Corneto che poi diventa Corneto-Tarquinia dopo la vita d'Italia e dopo il 22 diventa Tarquinia ora è una zona costiera una zona che noi dobbiamo immaginarci com'era fondamentalmente la costa del medio alto terreno in realtà fino a poco tempo fa l'ultima bonifica di questa parte del territorio di Tarquinia è avvenuta negli anni 50 dopo la guerra e fondamentalmente era un tratto di costa caratterizzato da un cordolo costiero che la separava dal mare aperto all'interno palude perché ovviamente c'è le correnti del mare che spingono da una parte i fiumi che arrivano dall'entroterra che si allardano e si creano queste tune costiere per cui il paesaggio della costa di Tarquinia è rimasto per un lungo tempo un paesaggio umido dove poi scorrevano questi fiumi che si allargavano con il loro delta e la palude va vista nel mondo antico sicuramente non come un fatto negativo soltanto cioè ambienti di malario ma è quello della tomba della caccia e della pesca cioè è un luogo dove si va a caccia è un luogo dove si pesca quindi un luogo di economia che va controllato e tanto più va controllata la pianura di Tarquinia perché questa la pianura di Gravisca perché in questa zona ci sono le saline e noi sappiamo l'importanza delle saline per la transumanza per l'economia per l'allevamento antico e non è un caso non è un caso che una delle iscrizioni più antiche dedicate ad era è un'iscrizione di un umbricos cioè di un umbro che sicuramente è uno dei personaggi sicuramente dei pastori transumanti che partivano dalle marche e arrivavano fino a quest'altra parte del no della costa di Renica questo umbricos che firma e dedica ad era e all'interno evidentemente di percorsi che avevano come come meta le saline di Tarquinia e diciamo che tutta questa zona è una zona proprio per questo occupata controllata fin dall'età diciamo del tardo eh da del bronzo e poi per tutta l'età villanoviana nella zona però più a sud vedete sulla freccia che è la zona del santuario che è una zona che rimane spopolata fino alla fine del settimo secolo avanti mentre tutti gli insegnamenti protovillanoviani e villanoviani sono più a sud dove c'era un altro porto dove c'era un altro porto e vengono controllati da una un'elite da degli aristoi tarquiniesi di cui per esempio nel 1850 nella pulitura di una delle eh delle vasche quelle che avete visto voi sono le vasche delle saline nella ricostruzione nell'anzi nella realizzazione papale dell'inizio dell'ottocento 1805 ecco si è continuato a lavorarci e nel 1850 usciva una ricca tomba di uno di questi personaggi citata a 630 avanti Cristo che oggi è esposta all'Uvra e che proponeva all'interno vasellami di bronzo calderone un grande calderone poi c'erano dei bacini ad ollo perlato e reiterati vasi per il vino di bucchero quindi è un personaggio estremamente importante altre tombe del genere ce ne avevano notizie attraverso degli eruditi locali quindi sappiamo che la zona è prima della fondazione del santuario emporico di calderista è controllata da questa elite perché per tutta questa serie di motivi perché poi c'è il controllo del mare non è un caso ci sono tutta una serie di tombe tarquinese che hanno all'interno tra il corredo delle piccole imbarcazioni di terracotta e diciamo sono proprio questi elite sono questi principi locali che evidentemente danno alla fine del settimo secolo il permesso perché ovviamente è un terreno controllato danno il permesso a questi greci di entrare all'interno di questa insenatura e fermarsi stabili vedete nella zona a nord dove ci sono diciamo non so se si vede il cursore ecco questo è il santuario questo è tutta una sorta di bacino interno che abbiamo ricostruito sia attraverso la lettura tradizionale della foto della RAF scattata nel 1940 ma poi anche attraverso un lavoro che è stato fatto con l'università di Siena e con l'ISPRA attraverso la lettura dei leader che quindi letture molto specializzate e in particolare c'è Carlo Citter dell'università di Siena con cui sto contemporaneamente lavorando e insieme poi all'università e si vede bene che c'è proprio questo porto interno così come dovevano essere i porti in età arcaica siamo nell'ambito di una navigazione a piccolo capodaggio per cui si potevano era una navigazione fatta con navi che poi la sera ritornavano si compievano fondamentalmente trenta miglia al giorno e poi c'era bisogno di questi posti questi porti che spesso erano le foci dei fiumi in questo caso è questa insenatura della costa e allora ci viene in mente subito una citazione omenica il porto dei Ciproni questo porto che ci viene descritto differentemente da quello che poi sarà l'accoglienza che lo disse la frase da Polifemo ci viene descritto come il porto perfetto c'è un porto comodo dove non c'è bisogno di fune di gettare l'ancora o di legare le gomme ma basta prodare restare a piacere fino a che l'animo dei marinai non fa fredda e non spiega i venti in capo al porto scorre acqua limpida una sorgente sotto le grotte ecco queste caratteristiche cioè un porto riparato e al tempo stesso acqua per fare rifornimenti sono le caratteristiche di gravista perché? perché tutto di sotto proprio nella zona del santuario basta scavare 80 cm e si trova una ricca ma ricca falda di acqua dolce all'interno per esempio qua vedete due pozzi vedete come è il livello della falda sia basso sia alto scusate al contrario e con dentro questa una di queste alfore è stata trovata un'anfora samia con le iscrizioni di riemetrie cioè è il vaso dell'acqua della misura giusta per cui molto probabilmente poi si pagava un tributo al santuario e diciamo ecco vedete tutte queste frecce sono solo una parte dei pozzi che sono stati trovati intorno al facendo di Afrodite una delle motivazioni principali che spinge i greci ad arrivare al gravista è la presenza sono greci che vanno verso l'isola terza il metallo il metallo dell'isola terza e tutti questi puntini che vedete che si sono tutti intorno al saccello di Afrodite che è in questa zona qui sono tutte officine legate di metallurgia legate al bronzo alla fusione e alla realizzazione di oggetti di bronzo quelli del ferro sono ancora più a nord ma in identità arcaica tutta l'area del santuario è caratterizzata dalla presenza di questi forni di fusione che sorgono proprio strettamente collegati all'edificio sacro della Dea e quello che cosa avviene è proprio nel 590 questi greci che provengono dal nord della Natura dalla città di Focea arrivano e fondono un santuario alla loro Dea Poliatica cioè alla loro Dea della città che è Afrodite con un con un sacrificio e con modalità che sono identiche a quelle che noi conosciamo conoscevamo per Nautratis in Egitto attraverso uno scrittore che è uno scrittore del secondo secolo dopo Cristo Ateneo che però è di Nautratis perché poi per noi è estremamente importante come fonte perché ha la possibilità di leggere fonti che per noi sono state ahimè perdute nel neufragio medevano e lui quando descrive descrive la fondazione di questo santuario che è posto proprio nel delta del Niro e lo descrive diciamo dicendo che questo i fami mercanti fami a questi mercanti fami vengono con chi ne è concesso un luogo per potersi fermare stabilmente dove poter vendere i propri prodotti e per poter onorare una propria divinità che fa da garante al mercato e questa divinità è Afrodite e il le modalità in cui avvengono è quello di un grande sacrificio di fondazione e Ateneo dice citando la sua fonte viene donata una statuetta alta una spanna cioè di 19 che è praticamente la stessa modalità che noi abbiamo costitato per il santuario di Polipartanese cioè nel 590 viene costruito un tempietto piccolissimo 6 metri per 4 con un piccolo prono con una cella con un aditon contemporaneamente viene fatto un grande sacrificio di fondazione perché il materiale è tutto materiale corrente della fine del settimo secolo che comprende un grande calderone bronzio tipo questo calderone che è più di due metri con protomi di grifo sono state trovate un grande dinos cioè un altro calderone però in terracotta in ceramica in wild gold style cioè della cleostile della capra selvatica che siccome proprio è un tipo di ceramica che non ha circolazione il trovare la granista vuol dire che l'hanno dedicato proprio gli stessi che venivano dalla zona in cui è stata prodotta e poi come dono fondamentale come agalman per il tempio viene donata una statuetta di afrodite armata perché è un'afrodite orientale un'afrodite astarte quindi che ha una lancia che ha lo scudo di cui si è trovata è una statuetta si è conservata per una decina di centimetri la parte in bronzo di produzione laconica la parte inferiore probabilmente era in legno o era in agorio c'è proprio la parte e qui da questo momento dal 590 inizia la storia di un luogo che è un luogo strepitoso perché è un luogo di contatto tra genti fenici da gente che viene appunto dalla Sardegna i greci che vengono da prima i mercanti che vengono da Focea poi i mercanti di Focea vengono sostituiti da altri mercanti che vengono da Samo e lì allora compare un altro edificio sacro che è dedicato all'altra divinità poliadica di Samo la grande idea non era e dal 530 arrivano quando Policrate è stato ahimè crocifisso dai persiani innanzi alle coste dell'Asia i mercanti di Samo Policrate è scusate il tiranno di Samo che aveva dato un grande vigore proprio al mercato di questo di questi dei suoi cittadini tutto il Mediterraneo e nel 530 arrivano i leggenti mercanti che sono di Egina vengono dall'Attica e con loro incomincia ad arrivare una grande quantità di manufatti da tutte le parti del Mediterraneo e qui vedete in questa in questa diapositiva ho cercato di mettere un po' tutto c'è il materiale previene da Corinto e lui in alto poi ci sono i materiali greco orientali c'è la navicella nuragica e poi c'è la coppa laconica ci sono le uova di struzzo che vengono dalla zona del Nilo ma poi possiamo andando avanti c'è questo un coperchio di pifide con sirena un ultimo rivelimento di qualche anno fa studiato da professoressa Mazzeria che è un prodotto anche questo di avoro una delle più belle rappresentazioni di sirena di prodotto un prodotto greco orientale e poi la ceramica attica migliaia e migliaia di vasi che noi troviamo in frammenti di ceramica attica che sono opera dei maggiori autori c'è più ceramica attica agraristica che ad Atene sicuramente perché il mercato ovviamente etrusco era il mercato questo no? fortemente verso per cui i grandi artisti atenesi compivano le loro opere e poi c'è questa ancora che ci ricorda il nome di di un grande mercante il più ricco dei suoi tempi ricorda Erodoto come leggete Apollonos Aginetai Emi Sostratos e poi Eseo cioè io sono Apollo Diegina mi ha dedicato Sostrato figlio di e poi continuava questa è una parte dell'ancora poi c'era l'altra parte speculare dove probabilmente c'era il finale del nome Laudamanti questo Sostrato noi sappiamo che si vantavano le ricchezze aveva fatto si era arricchito con i mercanti fondamentalmente con le sue navi che andavano in giro per il Mediterraneo ci sono dei marchi proprio che caratteristiche che ci indicano le zone dove lui ha commerciato e le troviamo non solo a Gravischia con l'ancora ma abbiamo questa scritta che si trova sotto il piede delle coppe ma le troviamo in Spagna le troviamo a Marsiglia e lui si era arricchito con le miniere di argento oltre di Tartesso oltre le colonne d'Ercole ecco tutti questi personaggi arricchiscono un mondo che è dinamico noi dico sempre quando voi chi viene in visita noi abbiamo un'idea dei santuari un'idea molto così pulita con i giardinetti con l'idea del santuario antico è ben altra l'idea del santuario antico appunto ha le officine a un metri in mezzo dal sacello della vea ma non una in ripetizione decine e poi ci sono le prostitute le prostitute che sono le prostitute sacre che sono attestate come in altri centri del genere sono attestate a Gravischia non soltanto da questa statuetta in Fayanz di questa Ierodula che fa il segno dove offre le sue parti intime ma fondamentalmente sono attestate da tante iscrizioni le ultime iscrizioni in Etrusco la maggior parte sono o di servi servi sono è una classe sociale intermedia e quelli che vengono definiti vettaxiu duolon cai e leutron cioè a metà strada tra i liberi e gli schirani che poi a un certo punto gestiranno tutto il santuario e poi ci sono tutto questo apparato sacro che è fatto da appunto queste sacerdotesse che servono Afrodite perché questo è il santuario di Afrodite di Era che sono due hanno due idee che hanno degli aspetti molto simili salvo che poi mentre Era che poi diventa Uni in Etrusco sarà poi avrà una caratterizzazione più legata al matrimonio e quindi al gli ultimi ex volpo etruschi sono bambini in fasce mentre la parte di Afrodite che è in Etrusco e Puran è quella più legata alla fertilità e la grande idea della fertilità per cui ecco gli ex volpo sono tendenzialmente uteri uteri che però non è legata alla fanazio ma uteri che hanno taldini che sono gli ebreori cioè gente che quindi aveva avuto un grazie alla nascita dei figli e lo scavo che stiamo invece facendo noi nella parte del santuario settentrionale viene si inserisce successivamente perché perché dal 530 in poi siccome questo sito è appunto brulicante di gente di ricchezza allora che cosa succede che tutti i vari villaggi che dall'Italia villanoviana erano nella zona meridionale a sud delle saline che cosa fanno si radunano a nord e si forma un abitato un abitato etrusco e tra il santuario emporico e quindi tra il mercato e il il la zona della città si vengono edificati due santuari a due divinità etrusche in questo caso che sono suri il nero questo vuol dire che i greci leggono come Apollo con Valenza e Infre e Cavata che è appunto la figlia del sole che però i greci leggono come Core e che per dire la commistione noi parlavamo prima col professore di questo mondo a quel punto anche gli etruschi siccome i greci la chiamano Core quindi la fanciulla anche Roda la chiameranno Sette che vuol dire la fanciulla per cui ecco devo spiegare un attimo facendo un passo indietro che cos'è un santuario emporico il santuario emporico è un santuario dove appunto viene concesso a questi etruschi di vendere le proprie merkenzioni si paga però un tributo al santuario e questo santuario diventa una sorta di salvadanaio le cui gestioni delle ricchezze sono poi diciamo gestite da inizialmente da questi viene locale queste cinque stiai storie locale poi dal 530 in poi si vede l'intervento politico perché questi questi nuovi aree sacre che vengono costruite non sono aree sacre semplici appunto abbiamo detto prima un edificio di 4 metri per 6 con fondazioni in ciottoli con alzati in mattoni crudi no questi sono degli altari monumentali che implicano l'arrivo da dalle da Tarquinia di blocchi di macco il macco è il tarcare conchiglifero locale quindi l'accesso alle alle diciamo alle risorse tarquiniese quindi chiaramente c'è un intervento centrale e poi c'è mano d'opera l'architettura in questo senso parla anche politicamente quindi si pone un controllo a questo mercato e noi abbiamo individuato in questi anni tutta la presenza di due temene importanti con degli altari monumentali un altare di 7 metri per 3 metri un altro che è quello di di 2 metri l'altare delta e l'altare epsilon un impianto regolare è uno scavo molto difficile è uno scavo molto difficile perché fondamentalmente non è rimasto nulla noi scaviamo tutto il negativo cioè scaviamo il cioè quello che voi vedete in grigio fondamentalmente sono lo spoglio dei blocchi di questo monumentale altare che sono stati alla fine del quinto secolo quando c'è una ulteriore rifondazione del santuario sono stati totalmente riutilizzati per gli edifici successivi per cui noi individuiamo nella sabbia il taglio e spesso nel taglio della fine del quinto c'è il taglio della fine del quarto prima c'è talora c'è anche quello della seconda metà del quarto quindi c'è il taglio nel taglio nel taglio e attraverso queste appunto questo negativo abbiamo ricostruito un impianto regolare che si dà appunto al cinquecentotrenta avanti Cristo e si abbiamo ricostruito appunto questi questi temene cioè questi recinti sabbi che poi verso la fine del quinto secolo vengono totalmente ricoperti di sabbia a quel punto già nel quattocentottanta il santuario imporico il santuario dei greci il santuario che aveva ospitato gli artigiani che sono all'opera a Tarquinia non ci sarebbe stata la grande pittura di Tarquinia senza l'arrivo di questi artigiani greci se voi andate in tombi importanti come in tombi le tomba della caccia della pesca oppure vedete che lì la mano è quella di pittori che sono pittori asiatici gli stessi delle coppe a figure nere di produzione no di produzione greco-lientale e d'altra parte sono stati trovati dei panetti di blu cobalto che con delle indagini che sono state compiute hanno visto che coincidono con il blu che poi era stato utilizzato all'interno di queste tombe ora nel quattocentottanta una serie di eventi sia esterni la prima la battaglia a largo di Cuma poi c'era stata la spedizione nefasta in era di supporto cartaginesi quindi una serie di eventi negativi ma poi una contrazione che è di tutta l'Etruria nel quinto secolo porta alla fine di questo di questo mercato e lo vediamo bene perché la ceramica attica passa dai migliaia e migliaia di esemplari a pochi pochi pezzi non lo scrivono più in greco ci sono soltanto iscrizioni in etrusco fino alla fine del quinto secolo e che cosa succede? succede che tutto il materiale che apparteneva alla divinità siccome è sacro non si può prendere viene preso ma frantumato in migliaia e migliaia di frammenti che noi troviamo sparsi in questa sabbia che avete visto voi e poi viene ricostruito ex novo un nuovo santuario viene ricostruito però con delle logiche delle logiche che prevedono lo spostamento dei due santuari che prima erano a nord quelli di sur e Cavata proprio di fronte all'area dei vecchi santuari dell'edificio di Gamma che è l'edificio di Era e di Afrodite e un altro edificio Delta di cui parlerò tra poco viene costruito l'edificio Alfa che è l'edificio di Suri e tutto intorno troviamo le ancore dedicate a Suri l'ancora di Sostrata è stato trovata qui in più ci sono delle iscrizioni ovviamente che identificano l'Ami perché l'Apollo che dedica il mercante Sostrata è stato dedicato a Suri perché loro lo leggono Apollo però per gli Etruschi è il Suri del santuario settentrionale così come il facello di Cavata viene spostato più a sud nell'edificio che legge che Beta e quindi è appunto comunque è un punto di riferimento per tutto il quinto secolo di mercanti che provengono dalla Sicilia e che dedicano come ex voto delle maschere che sono di produzione siciliosa perché perché i siciliani lo leggono come Persephone come cuore è un insieme coerente diciamo perché uno degli questi sono gli ex voto ultimi che vengono dedicati uno degli ultimi uno degli edifici questo edificio alfa con il doppio altare del sole dedicato ad Apollo Apollo di divinità solare di giorno che poi diventa solo in victus di notte quindi ci sono quindi che illumina dal di là e sono due altari che hanno uno rivolto verso il nord con gli angoli rivolti verso il nord e l'altro che invece guarda per il sacrificio verso sud e poi si arriva alla Donion che è l'altra grande scoperta di Mario Torelli pensate lui scopre diciamo scava questo edificio nel 73 nel 73 scava un edificio che è composto fondamentalmente da una zona con il portico una zona dove manca al centro dove manca il che post dove manca una pavimentazione e una cassa che lì per lì tutti identificano come la cassa di una sepoltura anche perché intorno erano state trovate le tonde della cappuccina però Mario Torelli capisce subito c'è un c'è un elemento che ti fa capire che non se noi stiamo parlando di una parte tipo sepoltura cioè la cassa questo giardino sono hanno un allineamento preciso che è quello parallelo agli altari di Afrodite ed è si trovano invece in opposizione con l'altare che sta più a sud che è l'altare di Tava Tacore e subito chiaramente forte della sua cultura si scava e si capisce soltanto quello che si conosce una massima che ci diceva sempre e io ripeto sempre ai miei studenti di metodologia che non fanno per essere un buon archeologico non basta la stazione totale ma ci vuole la cultura la cultura dei contesti e capisce subito e dice mi raccontava non ci ricredeva nessuno pochi anni dopo a distanza di anni mentre si faceva l'inventario del materiale trovato in questa stazione esce fuori una coppetta in ceramica sigillata con la scritta Adon cioè ha riconosciuto la destinazione di questo luogo culto di festa precedentemente appunto alla scoperta che è cosa che abita raramente e devo dire che cos'erano perché questo monumento è uno dei monumenti più importanti non ci sono altre attestazioni nel Mediterraneo occidentale dal punto di vista così conservati che anzi andrebbero tutelati nei giorni della canicola cioè quando il sole entrava nella costellazione del cane intorno al 19 di luglio avvenivano queste feste che era una grande festa della prostituzione grande festa in cui si celebrava quest'eroe perché non è un dio è un eroe Adone che è il pare il fanciullo amato da Afrodite conoscete tutti il mito è conteso tra Afrodite e Persephone non è che un caso vedete che non è un caso che i due santuari siano l'uno affiancato all'altro con il centro Ladone Ladonion e queste feste iniziavano proprio con il rinvenimento di questo fanciullo bellissimo che stava sotto questa tenda la Caliube e tutto intorno qui in questo caso la lattuga perché la lattuga è carica di valenze di tipo antropologico e anche sessuali e veniva riconosciuto veniva trovato nasceva questo questo eroe conteso da queste idee ed erano giorni di festa di vino di sesso Mario Torelli è uno degli ultimi articoli ha individuato ad Atene un santuario di Adone nella zona dell'Illisso il santuario di Afrodite Antiepolis che è molto simile al al facello all'Adonion di Gravisca e in realtà c'era da un lato una festa pubblica da un lato c'era una festa ad Atene privata che per esempio Platone vede malissimo per quanto riguarda Adone non c'è niente di sacro perché era la grande fresca della prostituzione e voi considerate che da quando era finito il mercato ad Gravisca l'unico teros l'unica fonte di ricchezza del santuario fondamentalmente erano rimaste le prostitute che stavano vicino al porto ovviamente per cui diciamo era una festa fortemente sentita ma anche era fortemente sentita non solo perché era una grande festa della città il mito di Adone che nasce e poi muore ogni sei mesi altro non è che una grande festa una concezione della vita della natura che è cittica e chi aveva come seconda fase il momento della mixis che avveniva in questa più rossi in questa torre lo sappiamo che è una torre perché prima cosa è stretta e quadrata poi è l'unica dove non c'è un pavimento in macco in pietra perché? perché c'era la scala per arrivare al piano di sopra e era lì che diciamo noi il avveniva l'incontro con la flotte e lo sappiamo perché c'è tutta una serie di opere in ceramica attica e che incominciano con un pittore nel 430 che è i Medias e poi continuano anche con produzioni più sommarie all'inizio del quarto secolo che mostra queste inizialmente Afrodite il mito Afrodite che si sta che si prepara a giacere con Adone che non si vede tra l'ora forse si vede e che poi avviene in un'altra stanza e poi dopo le rappresentazioni mostrano che cosa delle ancelle delle prostitute a seno nudo che portano cosa nei grandi vasi che sono anfore spezzate dove sono state piantate orzo piante finere abloto cioè tutta una serie che ricordano molto quelle che noi al sud facevamo i sepolvi che facciamo nel periodo di Pasqua sono delle piante che si fanno con il grano si vengono al buio e poi nei giorni di Pasqua si tirano fuori e sono tutte piante e poi muoiono perché vengono lasciate il segno della morte e la stessa cosa venivano qui venivano portate queste piante e incenso dolci e statuette del Dio perché Adone arrivava dal tetto il tetto nel mondo antico è lo spazio dell'aldilà se voi guardate la rassicurazione delle tombe di Tarquina il banchetto dell'aldilà sta sempre nei frontoni ma questo è un qualcosa che ritorna in altre culture addirittura nel mondo vichinico insomma quindi Adone arriva nel tetto si unisce ad Afrodite e il momento successivo qual era? Il momento successivo è quello che è indicato da un'iconografia molto antica che è quella dell'Afrodite Parachioctusa cioè che è la Venus Prospicens è l'Afrodite che si affaccia alla finestra cioè ci sono delle raffigurazioni che sono addirittura di nono secolo di ambito orientale Babilonia in Avorio Afrodite si affaccia alla finestra il gesto di affacciarsi alla finestra è di per sé stesso un gesto che dice è avvenuto quello che deve avvenire ma sì cioè l'atto sessuale quello che dà fecondità all'anno agrario però perché è questo che vuol dire l'affacciarsi alla finestra le popolane le borghesi di Salvatore di Giacomo oppure di Libero Povio non si mai si mostrano quando fanno le serenate perché sarebbe stata una loro disponibilità non sarebbe stata da buona donna mentre in questo caso Afrodite si affaccia però al tempo stesso lo sguardo mesto perché dice che Adone è morto e cominciava la terza fase della festa che era quello dei lamenti quello che appunto Saffo canta dicendo strappatevi le vesti battetevi graffiatevi i petti perché è morto il più bello degli eroi quello che viene ricordato da alcune fonti come Plutarco perché ricorda la partenza della spedizione a Siracusa degli Atenesi che era partita sotto l'infausto pianto delle donne che gemevano per il lutto di Adone che nel mondo antico la morte è un fatto sociale una grande contaminazione sociale che ha quindi bisogno di ritualità per essere superata e questa ritualità aggravisca avveniva all'interno di questa sepoltura che qui vedete ricostruita qui la vedete nella foto come vedete ce ne sono due perché c'è la tomba della fase del 480 che poi viene ripresa totalmente nella fase del 400 ma è il bello che rileggendo ristudiando in questi anni la documentazione degli anni 70 ho trovato la sepoltura la tomba di Adone già nell'edificio del 550 vuol dire che questo rito l'hanno portato i greci l'hanno portato in Sani e un'altra cosa appunto l'altro santuario era il santuario di Demi di Adone che è stato scavato anche questo negli anni a Mario Torelli nel 73 e nel 2013 è stato fatto un grande rinvenimento perché il pozzo non era stato indagato io sono andato così casualmente perché non avevano detto di chiuderli ho detto ma fammi vedere se prima è scavato e da questo pozzo è uscito una grande quantità di materiale e alla fine anche dei bronzi di offerenti di 40 cm di altezza un cantelabro un bronzo ma cosa anche strepitosa un grande sacrificio di chiusura che era stato fatto proprio nel momento in cui diciamo il santuario era stato abbandonato siccome chiudere un pozzo è un fatto gravissimo quindi va espiato avevano fatto un sacrificio alla divinità e in questo sacrificio scavato in ogni tipo di condizioni sono state riconosciute fondamentalmente una serie di riti e l'archeozologo ha riconosciuto ben 23 esemplari di civette decapitate e la civetta è il 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 avada e quindi è praticamente valsa un'iscrizione fondamentalmente per per questo per questo edificio ecco l'ultra accendo vado chiudo facendovi vedere gli ultimi scavi che stiamo facendo nella zona nord-occidentale perché anche queste sono estremamente importanti perché negli ultimi anni sono venuti alla luce due edifici che guardano verso il bacino verso il mare e sono due neoria neoria sono proprio del diciamo degli ambienti dei magazzini dove venivano portati a secco le imbarcazioni e sono stati trovati questi edifici che sono allungati vanno verso il mare noi ne vediamo una parte perché la zona dei bagnali è solo quella poi dopo però all'interno sono stati trovati degli scivoli che chiaramente tramite il confronto abbiamo conosciuto e questi scivoli dove venivano tirati a secco addirittura abbiamo trovato delle olle con il minio che serviva proprio per rifare gli scavi e poi ci sono le ancore ci sono i rai ed è importantissimo perché quindi la zona settentrionale diventa una grande zona di porto ed è l'unico attestato in tutta l'Etruria perché non ci sono altre attestazioni in Pignoria sono tutte fondamentalmente a Naxos o poi nel Mediterraneo orientale ma in Etruria sono i primi e poi sono i primi legati a contesti che non sono militari ma contesti produttivi perché contemporaneamente alle spalle vengono costruite ecco tutte una serie questa è la ricostruzione di mio allievo tutta una serie di magazzini che abbiamo trovato stipati di anfore cruspe quindi anfore di vino ecco così dovete immaginarvi questi sono chiaramente quelli di Zea in Atene insomma e contemporaneamente viene riorganizzato tutto il territorio e un dato importante che è venuto dalla geofisica al di fuori della zona di Scalgo abbiamo trovato la continuazione della strada che sta all'interno del del santuario che andava verso la civica e che sostituiva una strada precedente che era stata utilizzata fino a partire dall'età protovillanoviana questo che cosa vuol dire che la riorganizzazione del porto così come sempre a piede è un fatto economico più che di tipo strutturale i porti d'età romana i porti d'età medievale di Cornetto non si vedono sono porti interni ma fondamentalmente strutturalmente sono strutture di falangaggio dove approdavano queste imbarcazioni ma è un fatto economico invece che coinvolge totalmente il territorio e quindi si creano tutte una rete di strade e a quel punto il santuario che è totalmente rifondato come ha dimostrato Mario Torelli è gestito da questa classe di servitus che prima vi ricordavo perché le ultime iscrizioni sono etrusche e sono loro e 281 segna la fine del santuario e l'arrivo dei romani e la distruzione totale nell'area sacra ritornano alla metà del terzo secolo ma poi con la fondazione della colonia nel 181 viene tutto abbandonato e lasciato alle alle alla questa l'ho messa perché mi fa piacere dire che nel 2015 lo scavo è stato premiato al secondo Shanghai archeologia come io stavo nell'area dell'Europa occidentale per le tecnologie ottenute e per i risultati che sono scelto in quest'anno e voglio Cermai Torelli sotto l'ultima cosa per finire è questo io ricordavo ricordavo prima l'inizio di questa relazione che appunto lo scavo come diceva Mario era un momento di fortuna ed ecco appunto la scoperta del tesoretto del cerchio ecco la vita nella corredità mia diciamo proprio in questo giorno sono felice anche devo dire è stato un momento fortunato perché diciamo uno ha dei genitori poi dopo parti da casa hai la fortuna di incontrare persone che ti danno non soltanto dal punto di vista scientifico ma anche dal punto di vista umano dal punto di vista dei valori del senso dell'istituzione del senso proprio della vita e io ho avuto la fortuna di incontrare Concetta Masseria e Mario Torelli di questo è un qualcosa che mi porterò sempre al di là della vita che poi perché finiscono i suoi corsi oppure perché ti porta lontano però è un qualcosa che comunque ti porto il cuore grazie 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 a me dottore che c'è mi ha finito con una lezione per l'istima che ci ha fatto vedere un mondo praticamente per molti sconosciuto e in teoria ci sarebbe bisogna dare qualche minuto per qualche domanda abbiamo un po' avuto il limite massimo anche dell'azù e per cui non c'è molto tempo però se qualcuno vuol dire che vuole intervenire che vuole un chiarimento avremo tolleranza speriamo se no ci spengono tutto se qualcuno più vuole intervenire che vuole dire qualcosa sì Tutti soddisfatti della bellissimizzazione. Ovviamente ci hanno molto interiore, sia quella più personale, più forse scientifica, che ci mostrano anche quello che stanno facendo ancora. Quindi è bello che tutti ci siano possibilità di questi centri di eccellenza, che sono certamente un onore per incittare per tutti. Quindi io vi ringrazio di essere intervenuti e vi volevo solamente dire che le prossime attività prediste, che speriamo di poter realizzare, sono il 17 novembre, una conferenza di Augusto Ancillotti, che avrà un carattere di lottologo, lui sapete che è un lottologo, quindi si interterrà. Non abbiamo ancora i titoli definitivi, le relazioni, ma vi saranno ovviamente comunicati. Ci sarà una cosa sulle lingue, sui dialetti, sui italiani. È una cosa che credo sia molto interessante e poi un'altra ancora interessantissima, perché riguarda anche la salute, la nostra salute, che era tenuta il 17 dicembre dal professore, non so se ancora qui si è l'ha nascosto, ma poi il 17 sarà presi visibile, è vero, è vero, che fa questo stante lusannio, e quella è stata tenuta, questa è la prima, è stata tenuta qui, si spera, è tutto per rivedere, forse la faremo ancora in questa procedura mista e poi vedremo in dicembre qual è la situazione. In dicembre avete visto che c'è l'idea di chiudere l'anno, diciamo, in fausto delle pandemie con una bella cena, come al solito, che faremo probabilmente nello stesso posto dove siamo abituati a fare, però ne dobbiamo raggiungere quel numero circa, limite di circa 15-20 persone, ma credo che ci arriveremo, ecco, perché tutti i presenti qui verranno tutti, più altri, e quindi siamo a posto. Quindi vi aspetto il 17 di novembre per la cosa di Encelotti, riceverete le notizie scritte, e poi quella del 17 dicembre che sarà sull'alimentazione, il diabete e cose di questo genere. È vero, Paolo, se il 17 è valido, ma è quello che riguardi l'alimentazione e le sue conseguenze sul nostro benessere fisico. Grazie e arrivederci, buonasera a tutti. Grazie. 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 Grazie.